Buongiorno cari amici, buongiorno. Buongiorno Fiorellini, buongiorno Fiorellini. Allora, mentre il governo si dibatte tra i colori delle regioni, tra l'arancio, giallo e rosso, oggi sono state aggiunte due tacche rosse che mi pare siano la Toscana e la Campania, suscitando le irite dello sceriffo De Luca, il quale pur essendo del PD si scaglia in maniera diretta nei confronti del governo, che da lui è rappresentato nella sua circoscrizione. Vabbè, tant'è. Si lamenta anche mio amico Mastella che dice come noi a Benevento stiamo bene, abbiamo grossi problemi, eppure siamo anche noi diventati rossi. Insomma, la confusione dilaga, come già sapevamo. Ma oggi volevo dedicare il mio spazio ad un amico che improvvisamente se ne è andato l'altro giorno, fortunatamente nel sonno. Allora, andiamo per ordine. Nell'epoca del beat, di cui io sono stato un rappresentante, mi onoro di esserlo, della famosa Verona Beat, a Verona c'era un gruppo che era assurdo alle glorie nazionali, si chiamavano i Kings. Il loro cantante era, perché appunto ci ha lasciato l'altro giorno, Renato Bernuzzi, Renato meglio conosciuto da tutti come Renato dei Kings. I Kings quindi avevano portato il lustro alla città di Verona, diventando paladini della musica rock di quegli anni che vedeva tanti complessi. Due erano le città sostanzialmente che si dividevano il primato come numero di gruppetti rock. Erano Modena che ne aveva più di 200 e Verona poco meno di complessini di musica beat, quindi l'epoca del beat imperversava. In questa ottica Renato e i Kings diventarono famosi in tutta Italia, parteciparono al canta giro, vendetero dei dischi e l'altro giorno Renato, che era un mio carissimo amico, purtroppo non avevo la facoltà di frequentarlo assiduamente in quanto che lui è rimasto a Verona. Io ci andavo a Verona soprattutto per trovare mia mamma e andando spesso a pranzo all'ottimo ristorante Il Calmiere in piazza San Zeno, che è un posto meraviglioso dove si mangiano tutte le specialità veronesi, tra cui la famosa peara con i bolliti. È un luogo questo del Calmiere dove incontravo spessissimo Renato quasi sempre con l'amico Gio Zampieri, un'altra colonna portante della Verona musicale, con il quale poi ho fatto tante vicende, tante serate. Gio Zampieri è stato un mio sodale, un mio partner musicale, mi ha fatto fare tanti spettacoli. Vabbè, insomma, Gio Zampieri e Renato dei Kings spesso li incontravo al Calmiere quando andavo a pranzo con mia mamma. Tra l'altro la Calmiere si trova in piazza San Zeno, quindi quando fa bel tempo si mangia fuori guardando la meravigliosa Basilica di San Zeno, una piazza strepitosa di una bellezza da togliere il fiato. E mentre mangi la Peerati guardi questo bellissimo reperto dell'architettura romanica. Il povero Renato poi non ha più cantato, veniva spesso alle mie serate e in quelle occasioni sia io che Jerry lo coinvolgevamo, Jerry Calais lo coinvolgevamo, lui cantava sempre ai suoi pezzi rock. And one to the beat, and one to the moon, and the moon, and the moon. E cantava benissimo la canzone di Elvis. Insomma, in quegli anni 60, la musica meravigliosa degli anni Sessanta, i Kings avevano lasciato la loro impronta. Ora Renato che aveva delle patologie, si trascinava dietro un po' in maniera scriteriata i suoi malanni, ci ha lasciato, fortunatamente si è andato nel sonno come mi riportano gli amici e a lui va il mio caro saluto di oggi perché ha rappresentato tantissimo per la musica degli anni Sessanta ma soprattutto per la città di Verona. Verona Beat poi è diventata anche una canzone che io ho scritto con Nini Salerno che ne ha curato il testo e Verona Beat è stata anche poi una manifestazione che Franco Pini ha presentato più volte al Teatro Romano di Verona dove si dava un appuntamento alle vecchie glorie. Insomma, Beat 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 Verona Beat, una scuola e una città. E Renato è rimasto nel nostri cuori come rappresentante di quel periodo indimenticabile. Bene cari amici, un saluto quindi a Renato e per quello che riguarda le letture io non sono un grande, diciamo, Corrado Auges sappiamo che ha la tessera che è uno super politically correct, lavora per il governo in carica, conduce trasmissioni su Rai 3, insomma ci siamo capiti. Però ha scritto questo libro meraviglioso, I segreti di New York. Ecco, lo metto, lo metto, I segreti di New York. Leggetelo perché rimarrete basiti come si dice oggi. È un libro meraviglioso, scoprirete tante cose di questa città, tante, tantissime, come per esempio il fatto che Attilio Piccirilli, uno scultore di Carrara, emigrato a New York, Attilio Piccirilli, fu quello che scolpì la famosa statua di Lincoln al Memorial Center di Washington. E anche i due leoni della biblioteca sulla Thrift Avenue, italiani nel mondo, lasciamo l'impronta. L'impronta per questa giornata la lascerà nei miei cuori Renato Bernuzzi. Buona giornata.